Ci sono mai state donne pilotesse nella Formula 1? Ebbene sì, soltanto 5 in 70 anni. Nel 1958 Maria De Filippis, che non è quella di uomini e donne, fu la prima donna in Formula 1 e, 15 anni dopo, Lella Lombardi conquistò i primi punti mondiali. Da lì in poi ci furono soltanto Divina Galica, Desiree Wilson e Giovanna Amati nel 1992 a mettersi su una Formula 1 senza però riuscire a ottenere risultati di rilievo. Chissà se ora, con la W Series, la categoria di contorno della Formula 1 dedicata alle donne, Nei prossimi anni qualcosa cambierà, oppure no?